Bianca e arancio è la nave semi-affondata, semi-sommergibile Yanglan, costruzione cinese, le due torri di pompa, l'altra invece in bianco e blu è la osacavi Giulio Verne, affiancata dai rimorchiatori Verbece e stanno compiendo una operazione di imbarco della nave Giulio Verne sulla nave Yanglan che la trasporterà fino alle Filippine. Questa è un'inquadratura dal lungomare di Castellammare di Stabbia.